La palestra delle scuole medie di San Nicolò è ora a impatto zero, grazie a un intervento di riqualificazione energetica. Uno di quegli interventi di cui, soprattutto in questo particolare momento storico, c'è veramente bisogno. La palestra avrà quindi impatto zero grazie al cappotto esterno, alla sostituzione degli infissi, alla sostituzione dell'impianto con una nuova pompa di calore e all'installazione di oltre 24 kW di fotovoltaico. L'importo è stato di oltre 750.000 euro, ottenuti grazie a un finanziamento statale. Quindi questo intervento è costato zero euro per quanto riguarda i cittadini di Rottofreno. Il Comune ha poi aggiunto 85.000 euro per il rifacimento della pavimentazione e la sistemazione del tetto. Soddisfazione nelle realtà sportive del Paese, che ora dispongono di un impianto completamente rinnovato. Prima tra tutte la polisportiva San Nicolò, che utilizza e cura la palestra in orario extrascolastico. La differenza è sostanziale, si sente soprattutto nell'acustica, ma anche proprio nel caldo e nel freddo, si riesce a resistere, nonostante che sia un'ottima stagione finora, ma non abbiamo avuto ancora nessun problema. La palestra era stata costruita 22 anni fa. Questa è una bella palestra, tipo palazzetto, che comunque ha risolto molti problemi nel nostro territorio, perché c'era una palestra prima del 2000, era piccolina, bassa, quindi c'erano grossi problemi.